Il pubblico di collina applaudite questi atleti che stanno per vivere i 4 chilometri e mezzo della salita si alza il drone a divortalare questo momento. Il pubblico di collina la squadra A sta tagliando il traguardo e lo fa con Fing Lemp. Secondo posto, terzo posizione per la seconda atletica, assoluto protagonista di questi ultimi anni. Quarta posizione e dunque ha scavalcato la squadra slovena che taglia ora il traguardo con Gasper. Quarta posizione per la squadra e 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 la squadra. la squadra e la squadra e la squadra e la squadra. e approfittiamo per ringrazio di volta in volta Slovenia e a quella lei a vincere Slovenia vince la 60esima edizione di questa stagetta due rifugi Anna Kuper sigla questo successo alto le braccia al cielo il suo tempo lo sapremo ma intanto è già nella top 3 te smo smahele so da služne sono Berlvar, Ineja e Petra che sono tutti i miei e sono molto bene e sono molto bene e ho sempre pensato Petra che mi prodava la prima da non stai svegli e sono andata e quando sono andata e sono andata e sono un tempo ma si chiamata che si preguita? sì, ma fanno è tutto Holly Page, la Gran Bretagna taglia il traguardo, seconda classificata, va a ricevere l'abbraccio di Anna Koufer. I think today it's even more harder because it's so hot and I felt like after five minutes I felt that my heels are dead already. And then we have another Rigo for the pettorale numero femminile, that of Tirakosi for Slovenia, number 62, Dario De Reggi, taglia il traguardo, seconda classificata. Sperate che ci proviamo l'anno prossimo, andiamo domani a Tirakosi, stiamo raccontando un evento unico che solo la carnia, solo Collina può dare. Questa è la sua festa e questo è il grande spettacolo della corsa in montagna qui a Collina. Vai Pietro! Questa è il CODE Mi bo to da stresa, ne schifo! Skimli i tu! Dove ni si ima. Ehm, andata. Ore, da tegem leceste. Ehm. In tavoji komentar? Lekom a ne rečem, bolec, naporan. Spoh, pa, ta le zadnje dva km asfalta je nienormalno težko ove, ne? è stato un risultato anche in risultato quindi prima di 3 km ono stagione marco non so che ma la seconda 2 km è non so che non so che non so che abbiamo ok tutti e il risultato ma anche se non c'è c'è un sire Sire? Sire 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 ti sei obtożena da si ti kriva per primo mese? Non, tutto ciò che da, tutto ciò che è importante se una è stata troppo 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 così siamo mogli fare un ottimo un ottimo un ottimo mi è stato sottile mi è stata mi è stato molto attraverso che ho già conosciuto è stato un ottimo è stato un ottimo ti non vedo cosa ti è stata cosa ti è stata cosa ti è stata è stata è stata è stata è stata non 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 parwa stai un che che non 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 ciò qua Sì, sono stati in un'attività, in un'attività, in un'attività, in un'attività. Sono stata proprio in un'attività, ma non è stato un'attività. Hai fatto un'attività di Kupči. Hai fatto un'attività di 4. per la prima. Non, sono stata un'attività di 3. per la prima. Echipa, la stai un'attività. Anche le tecniche sono molto più importanti. Si sono stati un progettivo, ma anche il nostro paio, ma anche il tempo è anche il mio lavoro. Si ti hanno fatto quello di due dipruttori delle tecniche e i suprimenti in questo film, che ne vanno, che ne vanno, che ne vanno, che ne vanno. Mi sembra, che ne vanno, perché la vanno anche con me. Quindi, mi stai svegliendo. Quindi, non vanno. Quindi, mi sembrava molto. Il dana vittoria? 10 od 10. 100 od 10. Punti, fenomenalni ste. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti